t quick winner ben trovati parliamo in questa edizione di moda di accessori in particolar modo di arte applicata a questi due ambiti e lo facciamo con dennis santa giuliana benvenuto grazie allora dicevamo l'arte applicata alla moda esattamente com'è possibile intanto questa cosa e in che modo lo avete fatto ma guarda ci siamo ispirati innanzitutto alla nostra storia la dell'artigianità italiana che ci ha insegnato tantissimo e quello che per noi è normale per il resto del mondo è eccezionale e questa eccezionalità la voglio riportare cercare nel nostro modo il nostro piccolo cerca di portarla il più possibile negli altri paesi stranieri e far conoscere quello che è veramente l'arte piccoli medi laboratori artigiani che danno questo prodotto di qui a ricco il nord est dennis infatti è titolare del marchio panerò italian stein ed è una piccola media azienda assolutamente veleta assolutamente nato da quanto è nata due anni fa questo marchio è in collaborazione con un altro socio che giovanissimo di 28 anni che sta rilevando l'azienda di suo zio che sono 30 anni che producono borse per le più alte griffe del mondo e abbiamo unito le nostre forze la mia conoscenza sia per sviluppare di nuovi prodotti di ricerca e di conoscenze commerciali e lui per quello che riguarda le conoscenze tecniche e di forniture certo nelle vostre ultime collezioni vi ispirate anche all'arte del mosaico per esempio assolutamente sì perché è una cosa innovativa molto difficile dopo ben sei mesi di tante prove di varie colle quant'altro siamo riusciti a trovare finalmente il risultato eccezionale per garantire il prodotto che non si stacca che vediamo anche in questo oggetto per esempio con varie tessere ma sono applicate incollate sono applicate una ad una prima viene fatto un dipinto fatto a mano da artisti che sono già anni che dipingono loro quadri e abbiamo sviluppato questa gruppo di persone dove ognuno ha detto alla pittura e poi all'applicazione per ogni tassello uno a uno sulle borse dando così una personalizzazione una cosa unica bianco e nero colorate voi collaborate anche con delle scuole d'arte tra l'altro con degli studenti noi stiamo facendo adesso in prospettiva quelle che saranno il futuro dello sviluppo dell'azienda stiamo già selezionando delle persone che hanno appunto scuola d'arte e belle arti di venezia per selezionare alcuni soggetti tre quattro persone abbiamo stimato sulle tre quattro persone per fine anno che avevamo bisogno di assumere proprio per poter superire alle esigenze dello sviluppo del prodotto di e come vengono accolti questi prodotti più in italia più all'estero in italia non molto perché non c'è ancora questa cultura su questo tipo di prodotto all'estero invece ricercatissimo proprio il made in italy l'artigianità italiana è ricercatissimo che cos'è che piace del made in italy o di questi prodotti piace innanzitutto la qualità piace l'inventiva piace un qualcosa che va fuori dalle cose normali che ci sono in giro c'è le grandi griff adesso il mondo oltre oceano per intenderci come abbiamo contatti con gli stati uniti sono proprio alla ricerca di nuovi brand italiani di piccole e medie aziende dove possono dare un prodotto di altissima qualità e innovazione poi vendete anche i cinesi persino a loro che di solito invece sono loro che vendono a noi come è possibile le versioni del trend è possibile perché pure loro vi vogliono copiare per questo no ma copiare questa cosa qui è un po' difficile è un po' difficile loro copiano su quelle che sono le grandi distribuzioni le grandi quantità qua di grandi quantità non se ne possono fare perché appunto una borsa così ci vuole dalle 7 alle 10 ore di lavoro per farne una e questa cosa qua piace piace anche nel mercato cinese io spero vivamente di riuscire ad entrare con successo anche in quel mercato e forse anche un messaggio per gli altri imprenditori no perché il prodotto artigianale di alta qualità che appunto richiede molto lavoro che non può essere imitato e non anche la concorrenza dei cinesi piuttosto che di altra realtà venduta a basso prezzo e quindi un prodotto che all'estero si può vendere con buon successo l'errore che hanno fatto a mio avviso molti imprenditori negli ultimi decenni che si sono buttati a fare le grandi quantità la grande distribuzione non investendo più sulla ricerca non investendo più sul personale però queste cose poi vai a combattere sul centesimo per riuscire ad accapararti le commesse però a lungo andare poi rischi di morire ecco adesso quello che a me fa piacere e che vedo tante imprenditori anche giovani che si sono puntati proprio sulla ricerca di cose nuove e di promuovere quello che è la nostra storia quindi piccolo e ricercato è bello assolutamente sì questo sono gli ingredienti giusti per poter farsi notare e poter vendere andare nel mondo due ragazzi giovani che sono partiti da poco fra l'altro nel momento anche peggiore per l'economia perché in piena crisi che stanno vincendo questa scommessa contro la crisi come avete fatto con un pizzico di pazia dando controcorrente anche contro tanti pareri di tante persone però il mondo continua bisogna essere ottimisti guardare avanti e con sacrifici enormi ovviamente però secondo me i sacrifici lungo andare sono pagati la sede vostra è a schio e vendete appunto abbiamo detto in tutto il mondo i vostri prodotti dove si trovano anche qui in veneto in italia in italia non abbiamo alcun punto vendita attualmente poi vediamo noi ci siamo concentrati soprattutto con l'estero perché sappiamo che questo prodotto è un prodotto che può piacere per l'estero poi domani vedremo come si evolverà le cose e se qualcuno invece che sta guardando dire qualcuno in questo caso volesse proprio una di queste borse come fare per contattarmi avete un sito un recapito il sito adesso è in costruzione anche questo penso che tra un mesetto sarà tutto pronto e richieste ne abbiamo già avute no di queste borse e lo abbiamo pensato di fare una piccola produzione tenersi in magazzino e per chi volesse poi insomma tramite il sito panarò italian style il sito sarà con questo nome preso assolutamente perfetto e le tappe principali della vostra storia aziendale i momenti di svolta quali sono stati il momento di svolta in stabilità nei momenti in cui non so è successo qualcosa che mi ha fatto capire che stavate andando nella giusta direzione ma il fatto quando una bella mattina mi sono incontrato con il mio socio che ho ascoltato bisogna che facciamo qualcosa di diverso perché fare le bellissime borse di altissima qualità non basta ancora dobbiamo differenziarci da tutti gli altri dobbiamo essere diversi e dobbiamo produrre un qualcosa di diverso e che possa attrarre l'attenzione del mercato estero e così è nata questa nuova collezione e adesso appunto anche questa mattina abbiamo fatto degli incontri per i mirati arbi e sta piacendo e speriamo insomma e nel futuro della vostra azienda cosa vedete nel futuro io spero che le nuove idee che ho già nella mia mente perché per me questa è già vecchia ne ho delle altre però ovviamente devo prima sviluppare queste di idea per poi sviluppare le prossime io spero che queste nuove idee questa nostra forza entusiasmo e amore del nostro proprio lavoro possa dargli frutti e far crescere l'azienda da qui a un paio d'anni vorremmo arrivare speriamo che la fortuna ci 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 abbracci e che andiamo avanti ma sicuramente noi ve l'auguriamo e l'auguriamo anche a tanti altri ragazzi giovani che comunque stanno partendo con belle idee con un pizzico di pazia come abbiamo detto prima ma anche con tanta inventiva con tanta voglia di riuscire a fare grazie a nissanta giuliana è stato con noi in questa puntata e a presto arrivederci a voi arrivederci Grazie a tutti.